buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 2 novembre 2024 sappiamo come il 2 novembre è sinonimo della commemorazione dei defunti ebbene in questa occasione oggi alle 10 e 30 il vescovo di fano andrea andreozzi celebrerà la messa nel cimitero di via giustizia al cimitero centrale ci sarà anche il sindaco che alla fine della funzione deporrà una corona d'alloro sul cipo dei caduti in guerra oggi il sole sorge alle 6 e 43 e tramonterà alle 16 e 58 ed ora vediamo le previsioni del tempo il tempo è stabile per lo più su tutta la regione Marche ed sarà soleggiato qualche foschia o banco di nebbia pervarrà al mattino ed inesserata tra l'Anconetano ed il Pesarese sulle coste i venti ispireranno da nord e nord ovest nell'entroterra da sud ovest il mare leggermente mosso la temperatura varierà dai 10 gradi che è la minima ai 18 gradi che è la massima ancora temperature diciamo così temperate per quanto riguarda questo autunno che non è dobbiamo dire ancora molto freddo ma insomma la temperatura sta calando piano piano verso il mese di novembre che si sta inoltrando e allora ho fatto questo preambolo vediamo le notizie che appaiono sui giornali questa mattina partendo dal corriere adriatico che evidenzia un articolo diciamo di giornata perché si parla proprio di cimiteri così come fa poi anche il resto del carlino quindi vedremo i due articoli accostati sulle corriere adriatico abbiamo una presa di posizione dell'assessore delegato alla funzione alla cura dei cimiteri che è Mauro Talamelli sono stati già stanziati 200 mila euro ha detto Talamelli per cercare di curare quelle cose di riparare anzi quelle cose che sono così in atto da diverso tempo i cimiteri di Fano come la maggior parte dei cimiteri sono strutture antiche che risentono del passare del tempo abbiamo dei padiglioni che ormai debbono essere completamente rivisti rifatti ci sono delle carenze per quanto riguarda le infiltrazioni lo scrostamento degli intonaci qualche debolezza anche strutturale ebbene l'elenco che fa l'assessore Talamelli è un elenco piuttosto poderoso intanto con questi 200 mila euro che cosa intende fare l'assessore soprattutto dare la sicurezza infatti da lunedì scorso sono iniziati i lavori per livellare i camminamenti del cimitero centrale di via giustizia che erano stati così sommossi dall'insinuarsi delle radici degli alberi e potevano costituire anche degli ostacoli di inciampo in modo particolare delle persone anziane che sappiamo sono quelle che frequentano maggiormente i cimiteri e poi si cerca di rimuovere quella grande struttura in ferro che sorregge il soffitto in uno dei portici del cimitero centrale che è lì da diversi anni pensate e abbiamo anche problemi per quanto riguarda le grondaie del cimitero che si sono interrate quindi fanno sì che producano delle infiltrazioni ma ci sono poi tanti altri problemi come soprattutto rendere accessibile anche ai disabili i reparti sotterrani che si allagano frequentemente quando quando piove comunque per talamelli la priorità è la sicurezza ed è importante che siano iniziati i lavori perché non è solo il cimitero centrale che merita questa attenzione c'è anche il cimitero dell'olivo e tutte le strutture periferiche quelle agricole quelle del territorio agricolo il territorio rurale che sono un presidio importante per coltivare la memoria delle popolazioni che vivono in questi centri vediamo anche come riporta la notizia il resto del Carlino visita al caro estinto la tradizione non muore sono veramente tante le persone che tra ieri e oggi hanno visitato e visiteranno i cimiteri del comune viaggio tra i cimiteri cittadini tra le criticità difficile accesso ai padiglioni sotterrani e le condizioni fattiscenti di alcuni e abbiamo guglielmo venturi che indica le impalcature all'interno del cimitero dell'olivo vedete qua ci sono queste impalcature in realtà questo non è il cimitero dell'olivo questo è il cimitero centrale di via giustizia dove nel portico che è sul lato che dà verso il parcheggio il grande parcheggio di via giustizia c'è una struttura che sorregge il soffitto ma è lì da tanti anni intanto che queste strutture in ferro sono tutte arrugginite ebbene una delle priorità che ha posto l'assessore talamelli è quella di rimuovere questa bruttura e di consolidare appunto il soffitto che sono dei travi in legno che devono essere sostituiti dunque una massiccia affluenza ai cimiteri cittadini ho venduto 400 fiori ha detto una venditrice che appunto ha un chiosco in zona 400 fiori in meno rispetto allo scorso anno mi sembra che le visite siano diminuite è un parallelo forse non proprio opportuno perché poi uno può visitare i propri cari senza portare i fiori magari porta un lumino porta un qualcosa di diverso però insomma i fiori sono sempre l'omaggio più più gettonato diciamo così dal pubblico e poi passiamo al contraltare abbiamo parlato abbiamo iniziato la nostra rassegna stampa con la commemorazione dei difunti parliamo anche di un altro aspetto che è pagano invece questo è religioso quell'altro invece pagano e parliamo di halloween la festa che il 31 ottobre la notte del 31 ottobre ha un po dilagato in tutta la città di fano dal centro storico al quartiere di sant'orso grande partecipazione zero disordini per fortuna quest'anno non ci sono stati incendi di cassonetti oppure botti che hanno messo paura anche alle persone perché magari erano in passato sono stati fatti scoppiare in mezzo ai piedi dei passanti ebbene il comune ringrazia ringrazia i giovani per il loro senso di responsabilità e ringrazia anche gli organizzatori perché hanno organizzato una bella festa a luven piazza mostruosa perché era piena di mostri di bambini che amano così vestirsi da mostri per come ho detto esorcizzare la paura vediamo ora anche le polemiche di carattere politico si parla ancora del bypass ferroviario che dovrebbe così dare un nuovo impulso al turismo della nostra città perché si eliminerebbe secondo il progetto che aveva presentato il sindaco di pesaro matteo ricci dovrebbe eliminare la tratta ferroviaria esistente tra pesaro e fano cosa che invece la regione ha cambiato dicendo che quella tratta rimarrà anche se si costruisse una ferrovia leggermente più a monte ebbene insorge il segretario del partito democratico renato claudio minardi addio all'arretramento della ferrovia minardi uno scippo da 1,8 miliardi una cifra veramente ingenti che era stata assegnata al nostro territorio ebbene il minardi aveva partecipato al convegno anzi l'aveva organizzato il convegno che si era svolto nella sala pedinotti a palazzo martinozzi con la presenza dell'eurodeputato matteo ricci che aveva appunto indicato la regione come la responsabile di questo scippo del nostro territorio una occasione unica irrepetibile che ovviamente è frutto di una scelta politica ma c'è anche un contraltare e lo vediamo subito qui sul corriere adriatico e c'è chi la pensa diversamente e la pensa diversamente l'associazione ferrovie del metauro linea da raddoppiare il bypass è un progetto insensato hanno detto gli ambientalisti l'associazione ferrovie del metauro stronca la proposta di ricci con un giudizio categorico non c'è nulla di sensato nella proposta del bypass è una presa di posizione perché si dice che una ferrovia posta in una situazione ferroviaria posta in periferia sarebbe difficilmente raggiungibile dai cittadini sono cinque chilometri che la ferrovia la stazione dovrebbe essere spostata a chiaruccia secondo appunto i disegni delle di questo nuovo progetto e quindi questa ferrovia è questa nuova ferrovia questa nuova stazione viene rifiutata appunto dalla associazione ferrovia Valmetau vediamo ora le altre notizie e si parla di quanto accaduto a Valencia perché si parla di quanto accaduto a Valencia una tragedia veramente immane nella pagina che riguarda Fano perché lì abita anche un fanese un fanese che si è trasferito in Spagna da diverso tempo si tratta di Lino Clemente che molti ricorderanno come presidente dell'Alma Juventus tra gli anni 80 e gli anni 90 Lino Clemente aveva vissuto un periodo fortunato per il calcio fanese ebbene a Valencia c'è stata l'apocalisse alcuni miei amici sono dispersi Lino Clemente testimonia quanto è avvenuto in questa città prossima al Mediterraneo della Spagna meridionale una bomba d'acqua che viene chiamata Dana perché è frutto di un tutto un processo tra alta e bassa pressione che ha veramente scatenato l'apocalisse proprio il termine che usa Lino Clemente apocalisse sul territorio alla periferia di Valencia lui fortunato perché il centro città non è stato così interessato da questo sconvolgimento solo una leggera pioggia in realtà a pochi chilometri di distanza è successo veramente di tutto abbiamo visto anche nelle immagini televisive macchine accatassate strade interrotte persone che erano salite sui tetti che erano su di cruscotti delle macchine che navigavano su fiumi su fiumi d'acqua veramente di tutto di più Lino Clemente una testimonianza di un fanese per un'apocalisse che è accaduta in Europa appunto in Spagna vediamo ora le altre notizie Fano cammina in forma un progetto di prevenzione riprende questa bella iniziativa organizzata per tutto l'inverno si cammina per il benessere della salute ogni mercoledì un gruppo di persone si riuniscono, partano davanti al caffè centrale e poi compiono un percorso sulle lungomare, lungo la città e camminando chiacchierano ma camminando fanno anche esercizio fisico ed è veramente un'attività di prevenzione per tante malattie in più a questa iniziativa della camminata ci sono degli incontri di divulgazione medico-scientifica che metteranno in dialogo la cittadinanza con relatori appartenenti al mondo della sanità pubblica e privata la programmazione è in partenza il 9 novembre alle 10 si parlerà di diabete ebbene si prevedono 9 appuntamenti tutti di sabato fino al 31 maggio 2025 e gli eventi si svolgeranno al Pari Centro e alla Mediateca Montanari con il coinvolgimento delle associazioni già operative nelle precedenti iniziative insomma una manifestazione che ha delle partecipazioni importanti e che fa bene un po' a tutti e poi abbiamo una recensione fatta da una mamma una mamma che fa parte dell'associazione dei genitori con figli per l'inclusione in merito allo spettacolo che è andato in scena al Politeama nei giorni scorsi il musical Il Piccolo Principe ci insegna ad ascoltare le stelle il moto delle stelle quello che ci ha raccontato Dante quello che insomma ci fa sognare guardando le stelle quando cadono, quando brillano e quando ci danno la speranza per qualcosa di trascendente il Piccolo Principe ci insegna a sognare Passiamo da Acqualagna Bartolini, testimonial del tartufo la ruscella d'oro è stata consegnata ad uno chef stellato Enrico Bartolini, 13 stelle Michelin è stato nominato testimonial del tartufo di Acqualagna in Italia e nel mondo chef italiano di primo piano nella scena gastronomica mondiale esprime la sua visione audace e creativa in cucina è una piccola incipit della motivazione per cui questo personaggio ha avuto questo importante riconoscimento e boh, parliamo di un lutto un lutto improvviso è accaduto ad Acqualagna muore ed infarto mentre gioca a padel Maurizio Santarelli, 60 anni lascia tre figli, cordoglio ad Acqualagna moglie e tre figli ebbene tutto il paese piange la morte del sessantenne Maurizio Saltarelli molto conosciuto inutili si sono rivelati tutti i tentativi per soccorrere questa persona con il defibrillatore nel momento in cui si è accasciato quando giocava questa partita questa partita un altro tentativo poi è stato compiuto nel momento in cui è stato preso in cura dagli operatori del 118 nella postazione di Fossombrone ma non c'è stato nulla da fare purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati inutili e Maurizio Santarelli è deceduto un incidente piuttosto serio se verificato a Fano vittima un fanese di 60 anni residente all'estero ebbene è avvenuto ieri mattina in via Guarnieri nella zona di Fano 2 l'uomo camminava con un monopattino quando poi all'altezza di Corso Gui ha perso il controllo ed è rovinato a terra per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale è stato subito soccorso ed è stato trasferito per le sue condizioni piuttosto serie all'ospedale di Torrette di Ancona un altro tentativo di furto nella casa di Sorcinelli di Filippo Sorcinelli l'imprenditore della moda è conosciuto per essere il sarto dei papi l'abbiamo visto recentemente a Fano nella chiesa di Santa Maria Nuova inaugurare il ciclo di incontri della Università dei Saperi ebbene Sorcinelli si trovava a Sant'Arcangelo dove ha l'IPOPE la sua azienda quando il suo cellulare ha segnalato una inclusione nella sua casa di Mordov scusate nella sua casa di Mondolfo perché appunto è collegato con il sistema di allarme ha subito avvisato le forze dell'ordine però insomma l'intruso quando ha capito che insomma ha scattato l'allarme ha preso e se ne è scappato e non è la prima volta che insomma la casa di Sorcinelli subisce questi attentati parliamo poi di un centenario festeggia 101 anni si tratta di Olindo Battistelli in buona salute che ricorda un po' il suo passato le sue avventure la sua prigionia e la vita di emigrato c'ha veramente molto da raccontare Olindo Battistelli il quale dice ai giovani dico di avere rispetto rispetto per tutto rispetto per gli altri rispetto per l'ambiente rispetto per la natura rispetto per gli ideali che insomma dedicano che valorizzano soprattutto i valori dell'amicizia e dell'altruismo vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di ragazzini che sfidano la morte dobbiamo proprio usare queste espressioni i ragazzini sfidano la roulette russa addominali sulle strisce poi la fuga shock a marina di Montemarciano i giovani scappano prima dell'arrivo dell'auto la follia ripresa dai residenti ebbene per vincere la noia questi ragazzini non hanno pensato di meglio che fare degli esercizi ginnici per rafforzare gli addominali in mezzo alla strada in mezzo alla strada quando poi lì passano molti autoveicoli ebbene la loro bravura tra virgolette è quella di riuscire a scappare dalla strada all'ultimo momento mentre giungono le auto in corsa ed è una sfida che si fa molto molto pericolosa una roulette russa in via dei Platani a marina di Montemarciano nella serata di Halloween vediamo anche la pagina pesarese del corriere adriatico un giro di vite per quanto riguarda la presenza di sbandati in alcune zone del centro della città soprattutto per quanto riguarda piazzale Lazzarini piazzale Matteotti piazzale Primo Maggio ebbene qui arriva una stretta dei controlli della polizia per quanto riguarda persone che sono insomma in una situazione molto molto precaria si tratta di sbandati che spesso si danno ad azioni in consulte magari liti voci aggressioni e insomma qualcosa anche di più un quarantenne senza fissa dimora in zona ospedale è stato identificato era latitante perché ricercato anche di rapina vediamo ora il resto del Carlino l'apertura è dedicata ai cimiteri come già abbiamo visto visita al caro estinto la tradizione non muore vediamo ora anche quello che sta accadendo di novità in via Trave dove l'amministrazione comunale nell'annunciare l'incarico per il Put ha detto che verranno rimossi i restringimenti che sono stati usati dalla precedente giunta per ridurre la velocità degli autoveicoli ebbene il giudizio non è unanime via Trave dietro fronte ma senza vigili è inutile l'assessore conferma che le isole di cemento spariranno a metà del mese francolini che è uno dei residenti di via della Trave battagliero dice mandateci le pattuglie e poi giù multe per chi supera i 30 chilometri orari infatti la zona di via Trave nei pressi della palestra che è vicino al campus vicino scusate vicino alla zona sportiva della Trave è una zona molto a rischio dunque prevenzione e sanzioni sono l'unico modo per ottenere il rispetto dei limiti e proteggere i cittadini comunque ovviamente francolini che ha tanto protestato per la realizzazione di questi restringimenti sarà ben lieto che verranno rimossi avviso di chiamata per se il Filippi sicurezza si può fare di più dopo l'uscita della Lega che ha reclamato ancora una volta la Lega è un partito di maggioranza che si è rivolta alla Giunta e ha detto cerchiamo di realizzare quella previsione programmatica che era stata divulgata in campagna elettorale per incentivare i controlli nel centro storico in modo particolare per quanto riguarda le zone a rischio come quella di Piazza Amiani nei pressi della Mediateca Montanari ebbene i rappresentanti dei commercianti chiedono un cambio di passo dalla maggioranza dice si fa già tanto i commercianti con la presidente della Confcommercio Bartolini erano già intervenuti per suffragare diciamo così per convalidare questo appello che la Lega aveva fatto nei confronti della Giunta ha compiuto 90 anni il gentiluomo del Ring così viene definito il pugile Geppino Gentiletti che ha festeggiato raccontando tanti aneddoti come quella volta che sollevò un bigliardo con sopra quattro persone veramente un carnera dei tempi nostri stiamo in conclusione terminiamo con la pagina di Urbino legato al Bani con il consiglio d'amministrazione scaduto ed è polemica l'opposizione tornerà sulla vicenda nella prossima seduta del consiglio comunale con due interrogazioni per il sindaco Maurizio Gambini e con questa notizia come abbiamo detto terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento alle 7 di lunedì prossimo grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto